Aghi non vuole stare con papà e chiama mamma, infatti vuole stare con lei, tesoro di mamma. No, non si può Aghi, qua non puoi stare qua amore, no, no, dobbiamo uscire mamma, no, qua no amore, qui non puoi, fuori, 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 ok. Chi è stato a fare questo, chi è stato a fare questo per chi, tu, tu, adesso lo sai che tutti diranno che a casa nostra i vieti sono sporchi, lo sai, lo sai, va lui, lui è l'artista, l'arte, è l'artista, l'arte, artista non si può andare. Ma sei con tuo padre nel box, sei con tuo padre, sei con tuo padre, ma sei con tuo padre, amore ma sei con tuo padre. Aghi è veramente tremendo, da quando è iniziato a camminare si mette e si ficca da tutte le parti, bravo Aghi, monnellissimo. Grazie.